di nuovo mi ha appena fatto chiudere perché ha detto è stato rilevato un altro accesso con il tuo account cioè vi rendete conto si danno le scarpate da soli le zappate sui piedi da soli c'è proprio ladri 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 cazzo ladri fuori legge fuori legge completamente fuori legge completamente cioè è assurdo è assurdo è assurdo questo schifo assurdo è assurdo adesso si blocca il gioco dai non tutte le volte tutte le volte tutte le volte il mio stato d'animo è totalmente alterato per colpa della gameloft e della microsoft io mi sto sentendo male mi sta venendo l'ansia perché qualcuno usa i miei dati e quindi adesso come facciamo chi chi mi ripaga di questo guardate che scandalo guardate che scandalo sto gioco io ogni volta devo rientrare bloccare la gente ogni volta devo entrare bloccare la gente che usa i miei dati personali da un'altra parte dati dalla gameloft e dalla microsoft vediamo che succede sia adesso perché quello poveraccio adesso si stare incazzando abbastanza bene no e io continuo vediamo che succede spegniamo riaccendiamo scusate ma il nervoso è il nervoso un mal di stomaco da nervoso è assurdo quando posso adesso sembra che sia rientrato è assurdo è assurdo è assurdo è assurdo game loft game loft game loft io mi sto sentendo male a me comincia a venire l'ansia per colpa tua come la mettiamo